Premiato come calciatore africano del secolo, George Weah per il popolo liberiano è molto di più di un semplice calciatore. Nato a Monrovia il primo ottobre 1966, Weah da giovanissimo lavora come centralinista, ma sogna il calcio. Sport che lo farà diventare l'unico africano della storia in grado di vincere pallone d'oro e FIFA World Player. George gioca in Camerun a Yaoundé quando osservatori del Monaco lo portano in Europa. Nel Principato segna 59 gol in 4 anni, dal 92 passa al Paris Saint-Germain e si ripete e nel maggio 95 viene scelto dal Milan. A dicembre si aggiudica il pallone d'oro e a fine stagione vince lo scudetto segnando 11 gol. Nelle due stagioni successive segna 23 reti, dopo 4 anni e mezzo, 58 reti e 2 scudetti, Weah nel gennaio 2000 lascia il Milan. Chiuderà la carriera tra Chelsea, City e Marsiglia per poi riaprirne un'altra in politica.